Supercardio, già il nome dice tutto. Se volete fare un workout e uscirne a pezzi, questo è quello che fa per voi. Addome all'inizio, Supercardio centrale e un Super Supercardio finale. Insomma, ce n'è per tutti. Cominciamo! La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indonnita. Cominciamo! 20 secondi esercizio. Il primo, Mountain Climbers, che oggi ci hanno anche insegnato a farlo. Dai, Mountain Climbers! Nico Pace, oggi su questa pagina ci ha fatto vedere il tutorial. Bravo Nico! Dai, dai, dai! 5 secondi, poi, Cross Mountain Climbers. Uno, Cross Mountain Climbers. Deceleriamo un minimo. Hop! Deceleriamo, poco poco, ma deceleriamo. Hop! Dai, dai! 3 secondi! Uno! Adesso, Don't touch, fagli impartire l'orologio, via! Don't touch! Se no, poi non resta a segnare le calorie. Hop! Dieci secondi di Don't touch! Ancora! Due! Uno! Plump Jack! Apro e chiudo le gambine! Si chiama cardio abs, che fa parte dell'allenamento supercardio, fai uno più uno, cosa ti aspettavi. Dai! Cinque secondi! Cinque secondi! Poi, ginocchio, gomito! Via! Ginocchio, gomito! È tipo un Cross Mountain Climbers, ma vado a toccarmi un ampio col ginocchio verso il gomito. Dai, dai! Cinque secondi! Tre! Due! Uno! Twist Plank! Vado a destra e a sinistra! Topala! Topala! Otto secondi! Ancora cinque! E poi tre! Uno! Prima pausa! Eccoci qua! Come stiamo? Ci siamo? Prima pausa! E questo lo ripetiamo, eh! Quindi si riparte! Mountain Climbers! Ormai lo sai fare! Te l'ha insegnato oggi! Dai! Mountain Climbers! Se non l'hai visto, vai negli stories di Foodprint a vedere il tutorial del Mountain Climbers! Dai! Cinque secondi ancora! Due! Uno! Trasmo Mountain Climbers! Dai, dai, dai! Un po' più veloce di prima! Adesso, ora che siamo cambiati! Una volta che siamo cambiati! E poi TOTAC! Due! Uno! E vado qui TOTAC! Mi tocco i piedini! Topala! Dai, dai! Dieci secondi! Cinque! Dopo TOTAC! plank jack, ora plank jack, apro più le zampe, dai, 10 secondi, 5, 3, 2, 1, ginocchio gomito, e ci sto, e ci sto lì eh, dai, ginocchio gomito, e stiamo lì, 5 secondi, 2, 1, giù a fare twist plank, dai, 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 che poi abbiamo di nuovo la pausa, 5 secondi, 2, 1, pausa, cambiamo anche esercizi, adesso, circle climbers, muovi le gambe, un po' di qua e un po' di là, che ne dici, in 3 secondi partiamo, 1, via, monta il climbers, e muovo le gambe, a semicerchio, dai, 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 che mandiamo sul cuore, cominciamo a fare le prime sudate, dai, dai, adesso, lo spider, continua, 10 secondi, poi, plank jack, saltello, ora, plank jack, saltello, pulito, pulito, salto, pulito, pulito, salto, pulito, pulito, salto, pulito, salto, dai, 5 secondi, poi, plank, dinamico, adesso, plank, dinamico, avanti e indietro, ragazzi, il mio addonno brucia, non so il vostro, brucia, lo sono io che sono stato, 2, 1, mezzo parti, vai, 8 secondi, 5, 3, 2, 1, franti Jack, 4, chiudo normale qua, dai, 10 secondi, infernale questo circuito dominare, 2, 1, pausa le cose che lo rifacciamo, miseria, ma che ho scritto qua? Coccolo sei pazzo, me lo dico da solo, tranquilli, circle climber, ti riparto tra un attimo, 3, 2, 1, via circle climber, dai, dai, 2 minuti, quella zona che abbiamo fatto, 3 secondi, voi spider, adesso, spider, ragazzi è faticosissima, 10 secondi, dai, 5, 3, 2, 1, franti Jack, salvello, qualche volta mi scrivete, perché io brucio più calorie rispetto a voi, dipende anche dal ritmo che andate a fare gli esercizi, l'antidinamico, se andate alla mia stessa velocità, magari bruciate neanche un po' di più, dipende, dopo, mezzo practice, 3, 2, 1, mezzo practice, dai, dai, 10 secondi, poi dopo, 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 e poi abbiamo finito con la donna, 2, 1, franti Jack, subito! Dai, dai, che la tartaruga a fare questi viene, la tartaruga viene, parola 18, 3, 2, 1, bang! ragazzi per me io ero sbalvolato quando ho scritto questo sono sempre sbalvolato ma qui di più vabbè super cambio divertiamoci 40-20 40 di lavoro 20 di paura il primo dei due 40-20 sarà un po' più leggero il secondo invece fa bruttarlo cominciamo con ponte glutei e sit up nei 40-20 dai 2 ponte glutei 2 sit up e di nuovo 2 ponte glutei e 2 sit up e ponte glutei e sit up sempre 2 20 secondi ancora dai cominciamo a scaldarci eh questo è solo il riscaldamento 5 secondi 5 secondi 5 secondi pop pop e pausa 2 jumping jacks 2 jumping jacks metti partis questi sono i 40 secondi cardio di cui vi parlavo 2 jumping jacks 2 metti partis aiuto 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 dai 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 è ovvio che il consumo calorico dipende anche la velocità lo fate con l'esercizio eh se andate piano se andate piano è ottimo che consumate meno di me io sto andando a calma dai dai 5 secondi 2 1 pausa respira respira con calma riparte 2 ponte glutei e 2 sit up manda giù il cuore con calma arriviamo in fondo ci sono io portati in fondo il capitano abbandonata per ultimo la barca eh dai via 2 ponte glutei e 2 sit up 30 secondi hop dai dai 25 sempre 2 ponte glutei e 2 sit up vorrei farvi un discorsetto perché prima mi hanno scritto dicendo 8 la mia mano lo andiamo al lato sto male non riesco a fare il tuo workout pausa dammi la motivazione ragazzi lo sport è la motivazione punto con lo sport superiamo i problemi della vita questi 40 minuti ci facciamo un gran mazzo per sfogarci da tutta la rabbia che abbiamo dentro via via 2 jumping jack e 2 metri parti fanno dopo magari perché se no 2 non arrivi in fondo non vorrei mica fare figuraccele sempre 2 jumping jack 2 metri parti dai dai 10 secondi 10 secondi solo 3 2 1 fanno il prossimo 2 jump squat e a fondo posteriore 2 stesso lato quindi se vi hanno tradito se vi è successo qualcosa forciatemi di far sport allora 2 squat jump 2 2 a fondo posteriori destri e 2 squat jump e 2 a fondo posteriore destri dai hop hop e a fondo e a fondo squat jump squat jump a fondo destro a fondo destro dai ancora 10 secondi 5 3 2 pausa secondo voi sono mai stato tradito io? vi rispondo io parecchio sono stato anche parecchio male ma vai avanti 2 run and lunge 2 squat in squat out via 2 run and lunge 2 squat in squat out e 2 run and lunge e squat in squat out lo so che si sta male ragazzi però cosa dobbiamo fare? voi potete fare solo una cosa sfogarvi e lo sport è il miglior chiodo schiacciacchiodo tiratemi tiratemi di top 5 secondi 1 pausa 2 2 squat jump 2 affondi posteriori sinistro sinistro adesso fa la gamba sinistra riporto ancora un attimo 3 2 1 e andiamo 2 squat jump 2 affondi posteriore sinistri e 2 squat jump affondo affondo sempre la stessa gamba entra l'affondo dai 18 secondi e la gamba brucia non gli dare retta vai avanti ti sta mettendo dai 3 2 1 pausa 2 runner 2 squat in squat out stai respirando 150 calorie così in saccoccia 2 runner lunge 2 sport in squat out dai hop là dai 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 15 secondi ci siamo 2 runner squat in squat out runner e squat in squat out 3 2 1 pausa ah ma loro un po' si fatica un po' si fatica a fondo posteriore incrociato tutto col destro e a fondo laterale quindi cross e laterale ok? via a fondo cross e laterale cross e laterale dai dai tutto col destro prima eh 40 secondi di questo bel giottino qua non ditemi che è faticoso perché non un bel po' dai 10 secondi 5 dai 1 pausa ora ne fai skater jump io ve l'ho detto oggi era super cardio oggi bruciate tante di quelle calorie che neanche voi sapete quante 3 secondi si parte 2 1 skater jump veloce con i piedi eh vuoi bruciare come cotto? allora vai veloce come cotto dai se vuoi bruciare come me seguimi hop da una parte e dall'altra e da una parte e dall'altra dai dai 15 secondi come va? 5 dai 2 1 pausa oggi ho una carta ragazzi dentro che carazzi ho letto qualche messaggio dei soliti qua 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 dei soliti qua 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 a fondo posteriore incrociato più a fondo laterale e aspetta che tu puoi qua esso incrociato e laterale incrociato e laterale dai hop là e hop là dai dai ci siamo ci siamo incrociato e laterale altra gamba avete interesse eh 5 secondi 2 1 pausa e di nuovo skater jump imparate a trasformare le sfortune in fortune quello che è successo al nostro amico magari è la sua fortuna via skater jump io vi racconto questa quando ero fidanzato 3 anni fa non cucinavo non correvo facevo foto sport mi sono lasciato e ho imparato ad ascoltare me stesso prima di tutto 18 secondi quindi imparate prima ad amare voi stessi poi quando amate voi stessi potete amare un altro ma poi prima di tutto 2 1 pausa e andiamo avanti musica maestro ecco poi è divertente ma va non è per tutti questo commando destro sinistro push up esplosivo ovvero mi lancio su se non riesci push up classico ok commando commando push up esplosivo e di nuovo commando commando push up esplosivo nel caso un push up classico eh non è un problema va bene lo stesso anche sulle ginocchia va bene anche sulle ginocchia basta farlo tutti in fondo tutti assieme dai 5 secondi 3 2 1 pausa cosa abbiamo dopo la creata Nicol Morgan eh lateral bar piece divertimento grazie Nicol grazie 5 3 1 via lateral bar piece bar di qua e bar di là va bravo dai 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 c'è meglio questo del bar classico eh hai più tempo per il tesare dai 12 dai 5 secondi 3 2 1 e pausa mi rifai il comando e push up è così comincia ad accusare comincia ad accusare ci siamo? dai comando destro comando sinistro push up esplosivo e via oppure push up classico va bene che faccio dentista ma non è che posso mettere i denti a posto tutti voi dai 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 solo 15 secondi 10 secondi 5 3 2 1 pausa pausa vuol dire lateral baffis ci siamo? 3 secondi e si vola 2 1 lateral baffis dai 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 30 secondi 30 secondi 25 dai tienimelo dai tienimelo fatti il continuo tranquilli 12 secondi solo 8 dai 5 3 2 1 pausa via la manietta sto morendo di caldo spinge 2 blast off 2 3 secondi si fa 1 via 2 spinge hop e 2 blast off e 2 blast off e 2 spinge dai e 2 blast off dai che ce la fai hop 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 dai spinge blast off spinge blast off e ancora spinge spinge dai 6 secondi 2 1 pausa ora quello per studare questo non era per studare questo non era per studare ora ragazzi è tosto eh side mountain climbers ok? è duretto eh se no mountain climbers classico via dai dai anche col braccio in su se vogliamo lui ci diamo un pochino di equilibrio sono in side plank praticamente e muovo le gambe questo è delirio eh dai 20 secondi ancora bello però bello questo 10 secondi 10 secondi è bello nel duro 5 pausa significa spinge e blast off dammi bene baranza no 2 spinge 2 blast off andiamo spinge 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 blast off e blast off e spinge e spinge e spinge e di nuovo blast off spinge 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 mountain climber, dall'altro lato, otto secondi e si vola, si amo, via, side mountain climber, ma chi l'ha inventato questo, andrebbe picchiato, dai 20 secondi, dai che reggi, dai 10 secondi e basta, ci siamo, sto faticando un casino, 5, 3, 2, 1, pausa, ma stiamo scherzando? ma stiamo scherzando? Grampio e squat pulsato, 2 passi e squat pulsato, e 2 passi, squat pulsato, 2 passi, vado su, giù, e 2 passi, dai dai, 15 secondi, dai, 10, dai che ci sei, sono 5, 2, 1, pausa, cosa c'è? Blast off, plank jack, vabbè, 5 si parte, 2 blast off, via, 2 blast off, 2 plank jack, e 2 blast off, e 2 plank jack, dai, dai che siamo verso la fine, le circolazione, le circolazione, le circolazione, super cambio, 15 secondi, 2 blast off, 2 plank jack, dai, dai, pausa, si riparte, grampio, ultimi due minuti, grampio, squat pulsato, ragazzi sono pratico, 3, 2, via, grampio, su, giù che pulso e via, su, giù che pulso e via, come stai, come stai, dai che siamo alla fine, dai, dai, 18 secondi, solo 10, dai che vieni con me, vieni con me, vieni con me qui in fondo, grandietto, 3, 2, 1, pausa, ultimi 40 secondi, del super cardio, calorie 3, 20, direi che ci siamo, la cena te la stai per meritare, ma non è qui in fondo, ma non è qui in fondo, stai qua, corto l'ultimo anno ancora, via, 2 blast off, 2 plank jack, dai, 2 blast off, e 2 plank jack, sopra, 13, 6, 12, 14 secondi, dai, andiamo, 10, 3 secondi, 2, 1, pausa, abbiamo finito, il super cardio, come ti senti, super energica, super energica, super energica, via, 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 dai, dai, break dance, 10, solo 5, 3, 2, 1, pausa, il secondo, 3, 2, 1, pausa, il secondo, 3, 2, 1, pausa, il tempo, ready, 3, 2, 1, pausa, il secondo, Skip, 2, 1, dai di skip, dai 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 dai, 10 secondi, sono 5, 2, 1, pausa, jumping jack, e andiamo, jumping jack, dai che facciamo, la sudatina finale, questo circuito, lo ripetiamo, dai dai, 3, 2, 1, pausa, ripartiamo dal break dancer, 6, 2, 1, break dancer, dai dai, 12 secondi, 5, 3, 2, 1, pausa, jumping, hit off, dai somali, andiamo? via, jumping, ancora 10 secondi, dai dai, jumping, 5, 3, 2, 1, pausa, andiamo un po' skip, via, sulle gambe, sulle gambe, 8 secondi, 3, 2, 1, pausa, jumping jack, 5, 3, 2, 1, pausa, andiamo un po' di skip, 5, 3, 2, 1, pausa, andiamo un po' di oggi, oggi sono buono, 3 giri, 3 giri, si riparte, dai, invece che 4, via, break dancer, break dancer, dai dai, break dancer, andiamo manetta eh, 3, 2, 1, pausa, asinello, jumping, 5, 3, 2, 1, via di donkey, base, dai dai, 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 dai su, dai su, dai su bene, 10 secondi, 5, 3, 2, 1, pausa, facciamo lo skip, skip, 3, 2, 1, skip, 3, 2, 1, skip, 3, 2, 1, skip, vai su bene, e skip bene, dai, se vuoi andare per l'ultimo, tutti assieme, poi andiamo a cena, jumping jack, apro e chiudo, oggi chiudiamo con il jumping jack, per cui date tutto, 10 secondi e poi basta, 5, 3, 2, 1, bang, 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 buono allenamento, buona serata, buona serata, bellezze mie, mi leggo la frase, non saprai mai quanto sei forte, fino a quando essere forte, sarà l'unica scelta che hai.